benvenuti nel mio canale di cucina oggi preparerò dei tranci di pesce spada cotti in padella con delle erbe profumate aromatiche vediamo insieme gli ingredienti e la preparazione le erbe che andremo a utilizzare è del rosmarino dell'erba salvia del timo della maggiorana e dell'erba cipollina e un limone ora vediamo la preparazione spremiamo un limone dopodiché sminuzziamo l'erba cipollina e la uniamo al succo del limone aggiungiamo un filo d'olio del sale e del pepe e mescoliamo lasciamo che questa emulsione si aromatizzi lasciamola per circa una trentina di minuti dopodiché procediamo con la cottura il trancio di spada versiamo un giro d'olio nella padella accendiamo e lasciamo che intanto si scaldi uniamo due spicchi d'aglio e creiamo un letto con le nostre erbe aromatiche dopodiché posizioniamo sopra il nostro trancio di spada insaporiamolo con l'emulsione che abbiamo preparato precedentemente copriamo con il coperco e lasciamo cuocere dai 5 ai 7 minuti trascorso il tempo di cottura il trancio di pesce spada è pronto per essere servito con questa cottura il pesce spada risulterà profumato morbido e succulento vi garantisco che mangerete un trancio di spada buonissimo se vi è piaciuta la ricetta mettete un like se non vi siete ancora iscritti il canale fatelo lasciatemi un commento in descrizione e condividete il mio video vi aspetto alla mia prossima video ricetta